L'Associazione Italiana per la Creatività dal 18 gennaio ha promosso l'iniziativa La Creatività Aiuta Haiti. L'Associazione Italiana per la Creatività ha reso noto un proprio comunicato nel quale si legge Dona un pezzo della tua creatività per aiutare i bambini di Haiti contro la distruttività del terremoto. La distruttività del terremoto non blocca la creatività umana, può distruggere case, oggetti, opere, ma non la creatività di noi tutti. Il progetto prevede che tutti gli aderenti diano una piccola parte della propria creatività a vantaggio dei bambini vittime del terremoto di Haiti. Tutti gli oggetti donati verranno messi all'asta su ebbeghi e il ricavato verrà utilizzato per la creazione di una struttura d'Aiti, La Casa della Creatività e dell'Amore, in cui verranno accolti bambini vittime del terremoto, soprattutto quelli che sono rimasti orfani o fisicamente danneggiati. L'iniziativa vuole sottolineare che tutti possono aiutare Haiti, anche senza versare somme in denaro. Un artista può donare una sua opera, un disegno, un quadro, una scultura, un abito, un oggetto personalizzato, una maglia, un libro, un cd o un altro oggetto autografato. O il ricavato di una sua performance musicale, teatrale. Le aziende potranno donare prodotti da loro creati e commercializzati. Gli altri possono dare un qualunque oggetto creato da loro stessi. Un presepe, una maglia fatta a mano, un lavoro all'uncinetto, un ricamo, un braccialetto, una collanina, una borsa, una cintura, un oggetto in legno e in ferro. La creatività indesa, non solo come oggetto concreto, ma soprattutto come relazione empatica e comunicazione di emozioni positive, può essere ancora più preziosa del denaro. L'appello dell'Associazione Italiana per la Creatività è diretto a tutti, artisti e non, adulti e bambini, ricchi e poveri, singoli soggetti, aziende e gruppi, purché abbiano un sentimento creativo da trasmettere ai bambini di Haiti. Concretamente chi vuole aderire all'iniziativa può collegarsi al sito dell'Associazione Italiana per la Creatività www.associazionecreatività.org dove trova una pagina dedicata al progetto con tutte le istruzioni utili. Chi vuole può anche collegarsi a Facebook dove trova una pagina dedicata all'iniziativa La Creatività Aiuta Haiti.